salve ragazzi ben ritrovati all'interno di questo nuovo video io sono vapor e oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di acquisizioni parliamo di acquisti perché sì il gioco stumble guys quello che ci ha accompagnato ormai dall'inizio di maggio fino a questo punto dell'estate ormai quasi autunno è stato venduto da chi da kitka games per chi scopli cose scopli lo scoprirete all'interno di questo video vi ricordo che tutti i video vecchi di stumble guys li trovate qua nelle schede cliccabili sono ormai più di 90 quindi parliamo di tre mesi di video interi di stumble guys quindi tanta 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 roba mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella perché ascoltate il vap ci saranno delle novità su stumble guys e sapete che noi siamo i primi a portarle quindi è il canale giusto vi ricordo anche che siamo in live il pomeriggio insomma un sacco di cose che sapete già insomma profiletto di stumble guiz 5600 coppe 30 vittorie finalmente raggiunte pass opening fatto pochi giorni fa manca poco per il raggiungimento della soglia numero 29 e poi successivamente soglia numero 30 per andare a sbloccare i tanto amati pugnazzi questa season stiamo veramente tryhardando come si deve vi faccio vedere come sta andando il nostro armadietto perché mi avete chiesto molti ma per quante skin ti mancano molte me ne mancano tre speciali all'incirca una diciassettina di leggendari e poi poche epiche perché le epiche sono un po più facili da trovare con i giri epici ne trovi molte a proposito se volete vedere un giro di skin epiche quindi un diciamo un box opening di skin epiche fatemelo sapere attraverso i like e magari anche commenti quindi commentate qua sotto che diciamo le notizie sono abbastanza calienti io farei una partita al volo proprio ci buttiamo dentro il game senza nessun tipo di problemi e appunto vi stavo raccontando che il gioco ha cambiato di proprietà se volete vedere le riflessioni le farò verso la fine prima però vi presenterò un articolo pubblicato proprio da stumble guys che presenta con questa novità alla community che l'ha presa in realtà neanche troppo male l'ha presa abbastanza bene quindi sono contento di con questa cosa ecco adesso ci buttiamo di qua e naggia la miseria non dovevamo prenderci ste pallone palloni gonfiati per favore basta io odio i palloni gonfiati mi continuano a prendere ragazzi io sono il bersaglio preferito dei palloni se qualcuno vuole dei palloni da lanciare me li lanci addosso perché non c'è neanche bisogno di lanciarmi perché comunque mi arriveranno addosso in qualche modo cioè questa è una cosa che ho constatato nei degli ultimi giorni ok grandissimo questa giocata qua che ci siamo angolati perfettamente si si qualifica si qualifica al vap senza troppi problemi oddio oddio sei serio sei serio mi fai tornare da qua ragazzi il vapor perde la sua qualifica in una maniera ingloriosa e poco da fare poco da fare ci spostiamo però su twitter perché ho già aperto il profilo andando sul profilo di stumbleguiz questo qua ufficiale con 17 mila follower noi abbiamo iniziato a fare che ne aveva veramente di meno e ha pubblicato questo nuovo post ok con con delle robe molto carucce hanno scritto un nuovo tit inizialmente molta gente non capiva ok però se schiacciate sopra il link vi si apre questa pagina dello stumbleguiz support che avevo già fatto proprio un video al riguardo c'è scritto news of acquisition stumbers we have exciting news we are happy to announce that stumbleguiz will join the scoply family scoply is a leader in the mobile gaming industry bringing us gems like star trek marvel and w w w champions we are sure you are super curious to know more details about all this you must have many questions you can find more information here or just read our queen a below se voi aprite quest'altro sito c'è proprio scritto scoply che andiamo all'interno del del ceo del dell'azienda che dice che hanno comprato questo gioco ragazzi spiegano un po tutti i dati di stumbleguiz parliamo di 20 milioni daily players quindi 20 milioni di player che giocano ogni giorno un miliardo di ore giocate in totale un sacco di nuove cose e un gioco che connette le persone in tutto il mondo soprattutto in questo periodo estivo il gioco ha subito un sacco di crescita e il problema è stato fondamentalmente che i quelli di kitkal games non si aspettavano tutta questa crescita si sono trovati una patata bollente in mano e con la potata e bollenti sapete che vi scottate quindi loro si sono scottati hanno deciso per non bruciarsi in modo definitivo di dare via al gioco scelta giusta l'hanno venduto adesso qua non dicono le cifre per le quali hanno venduto il game ma parliamo comunque di cifre abbastanza alte e questo cosa dicono all'interno poi del dell'articolo in se per sé dicono che il gioco preso da scoply scoply molto brava nella 3d version e in tutto questo sviluppo di applicazioni 3d e cose di questo genere dice che con l'arrivo e l'approdo su piattaforma scoply potrà soltanto far dar beneficio al gioco potrà creare effettivamente un gioco diverso innovativo con più esperienze di gioco un sacco di nuove mappi un sacco di nuove skin perché la cosa fondamentale che c'è da capire che adesso vi metterò e vi inizierò a parlare di questa cosa è che il kitka games secondo me ha venduto il gioco per una questione puramente economica mancavano i fondi non riuscivano a sostenere un aggiornamento continuo del game che possa dar piacere alla community sono arrivato ad un certo punto nel quale non ce la facevano più e per evitare ulteriori danni per evitare secondo me di bruciare un gioco con molto potenziale l'hanno gestita nella maniera più egregia possibile scelta a quanto a mio parere azzeccata sotto questo punto di vista di conseguenza cosa abbiamo capito abbiamo capito che innanzitutto il gioco ne vale la pena è un gioco che ci stanno investendo quindi continuate a giocarci perché arriveranno secondo me delle novità molto 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 succulente assolutamente con questa nuova con questa procedura in scoply arriveranno nuove mappe arriveranno nuove skin io spero una remodel generale di tutti quei problemi quali hacker quali problemi di bug generali creazione delle mappe semplici connessioni quindi server improvement qualsiasi tipo di problema della user experience quindi migliorare migliorare in generale ad esempio lo shop le offerte perché ragazzi parliamo di un gioco nelle quali le offerte non vanno assolutamente bene vi ho fatto un video l'unica offerta che ha senso shoppare è un'offerta che ti dà la skin speciale una volta che finisci le quattro skin speciali da trovare ragazzi shoppare su stumble guys non ha più senso migliorare il rapporto con i creator quindi dar più possibilità a più creator di joinare di poter creare dei tornei insomma secondo me di cose da fare ce ne sono e l'opportunità che ha avuto scoply è stata eccezionale peccato che non ne ha sfruttato supercell perché era un'ottima opportunità anche per supercell ma secondo me supercell avrà qualcos'altro in palio per noi il video comunque termina qua spero di essere stato più chiaro possibile spero che voi vi trovate d'accordo comunque se non siete d'accordo non fa niente basta che mi scrivete qua sotto le vostre motivazioni cosa ne pensate dico di questa cosa che è successo all'interno del game noi ci vediamo vi ripeto tutti i giorni all'ora e 14 qua sul canale eventualmente alle 5 e mezza qualche giorno durante la settimana in live ma per essere più precisi seguite instagram che lì vi aggiorno giorno per giorno tiktok per dei video stupidi ed esclusivi quindi andate a recuperare e noi ci vediamo domani ciao belli miei ciao